un saluto a tutti salam aleku qui dalle rive del nilo in barca vela tipica egiziana quindi nella feluca per farvi un annuncio importante nei prossimi giorni il mio amico arduino top trader fidatissimo da sempre fa un evento unico nel suo genere l'ha fatto anche l'anno scorso sempre 17 di aprile quindi segnatevi bene questa data poi vi do il link appena sotto questo video il 17 di aprile si parla di price action ora la price action è chiaro che è una disciplina importante che va conosciuta saputa molti dicono che fanno la price action e poi alla fine è un po l'analisi tecnica inganfita no la price action è la price action arduino l'ha portata in italia è stato il primo a portarla in italia dagli stati uniti e insieme andamo sul palco davanti a circa 200 e più persone nella sua zona che eravamo allora a padova lui è di rovigo che è un comune vicino a padova da lì sono più di 15 anni forse che insieme collaboriamo nel trading nel education nella formazione lui è titolare della sua iniziativa year forex ed è devoto alla price action da sempre l'ha studiata in tutte le salse la proposta in tutte le salse si è creato anche un suo modo di analizzare con la price action il prezzo e tanta è l'esperienza che ha da raccontare lavorato e lavora tuttora in collaborazione con il primary broker eg va sul palco a rappresentare spesso in alcune conferenze questo broker oppure è stato sta al trading forum la fiera più famosa che c'è in italia è stato da poco a classi mbc è uscito su mia finanza insomma una carriera da trader devota alla price action il 17 di aprile con un ticket che diciamo allontana i curiosi e quelli che non vogliono prenderla seriamente di 19 euro che è il prezzo scontato che potete avere in questo momento potete partecipare a un evento che non dura 15 minuti a un'ora ma è impegnativo e vi dà dei contenuti cioè non è un evento promo è un evento che vi dà dei contenuti sulla price action quindi io vi raccomando né più né meno di partecipare a questo evento lo faccio da questa feluca avrei tanto voluto fare una diretta insieme ad arduino ma è difficile vi posso garantire ci potete credere farla dalla feluca quindi se mi capita la faccio io da solo perché bisogna beccare il momento giusto presumibilmente la faremo comunque al mio ritorno prima del 17 d'aprile intanto vi invito assolutamente a iscrivervi a questa iniziativa perché è un'iniziativa che mi ringrazierete per avervela indicata e ringrazierete sicuramente arduino e il suo team di lavoro che condurrà questa iniziativa per averla fatta arduino vi aspetta e io non posso far altro che invitarvi a questa fantastica giornata grazie a tutti